Si trovano in cassa integrazione straordinaria e non hanno alcuna certezza sul loro futuro. Si tratta dei 70 lavoratori della Sud Elettra, azienda dell'indotto dello stabilimento di Gela, che ha perso tutti i contratti elettro-strumentari sia in Eni che in Enimed. E questa mattina, per protesta, i lavoratori hanno bloccato i cancelli all'ingresso del polo industriale. Nessuno è entrato. Da giorno 28 la nostra società ha perso il contratto di manutenzione quadri all'interno di raffineria e stiamo facendo una protesta perché ci sono dei licenziamenti in corso e quindi perso per guardare il posto di lavoro. Circa 20 giorni fa avevamo chiesto un incontro a Sua Eccellenza il Prefetto, di cui siamo fiduciosi che ci possa convocare il più presto possibile per far sì di risolvere questa situazione di precarietà. che stiamo vivendo in questo momento. Sono più di 15 giorni che io non riesco più neppure a dormire perché sono stato licenziato dalla Sud Elettra senza aver rispettato scatti e anzianità, carichi familiari, ammesso all'aistri con le persone. Con la situazione che si sta verificando oggi con le perdite dei contratti. Oggi mi sento una persona inutile, ho una famiglia da mantenere. La vicenda della Sud Elettra viene costantemente monitorata dai sindacati. Ci sono in rischio circa 65 posti di lavoro perché la Sud Elettra, che era titolare quadro di due contratti, adesso che è venuto meno questi contratti, i lavoratori hanno paura del loro posto di lavoro. E poi c'è un'altra discussione che è quella inerente all'assunzione di questi lavoratori presso le aziende che hanno acquisito i contratti. Si parla di tantissime unità meno rispetto all'amore di lavoro che c'è qui in raffineria, nei canteri Enimed e alla tipologia anche di contratto perché molti lavoratori passeranno da un contratto a tempo indeterminato, da quello che si discute, a assunzioni con tempi determinati o agenzie interinali. Questo è intollerabile e col sindacato attiveremo una serie di proteste per salvaguardare i livelli occupazionali in essere.